Percorso Indagare Perché Gesù è buono ma tanti cristiani sono cattivi? Buona domanda eh? Buona domanda Voglio vedere chi risponderà a questa domanda Cioè non vogliamo avere una fede che evita i dibattiti più difficili Ma è che dice tu devi credere e basta No, vogliamo una fede che si confronta Sia per facilitare l'avvicinamento di coloro che non credono ancora Stanno alla ricerca e hanno dei dubbi genuini Sia per aiutare coloro che già credono A avere una fede salda e saper spiegare perché credono Poi se queste domande aiuteranno tutti noi Io credo, perché? Oppure io non credo, perché? Fammi ragionare un attimo, voglio indagare più in fondo E oggi iniziamo da un tema tosto, dalla sofferenza Cioè se Dio esiste, perché non elimina la sofferenza? Perché mi fa male la schiena? Il dente, la testa, il cuore Il dolore è un fatto della vita Vivere è soffrire Vivere è sentirsi soli Bramare è piangere È domandarsi sul perché delle circostanze È arrabbiarsi con lo stato del mondo È domandarsi come mai? E la Bibbia è la prima a esprimere questo grido di protesta Ecco un Salmo che dice questo Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima? E la fanno nel cuore tutto il giorno? Uno dei momenti più onesti dei Vangeli accade quando due sorelle, Marta e Maria Perdono il loro fratello, Lazzaro E dicono a Gesù quando Gesù arriva Signore, se tu fossi stato qui Mio fratello non sarebbe morto Cioè, dov'eri Gesù? Perché non sei intervenuto? Poi Gesù stesso grida dalla croce Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La Bibbia è molto onesta Non evita il tema Ogni tragedia ci ricorda che il mondo non è come dovrebbe essere E tante persone che non credono Giustificano la propria mancanza di fede Dicendo, vedi? Non può esserci un Dio buono Se c'è tanta sofferenza nel mondo Addirittura Gesù, che era una persona splendida Soffre in quel modo Già nell'antichità, uno dei poeti romani, Lucrezio Concluso è questo Leggo Se Dio avesse disegnato il mondo Non sarebbe un stato un mondo così fragile e difettoso Come lo troviamo? La formulazione classica di questa obiezione Fu data da un filosofo illuminista Chiamato David Hume Lui scrisse questo Dio è disposto a evitare il male Ma non è capace? Allora è impotente È capace, ma non è disposto? Allora è malevolo Entrambi capaci È disposto? Allora perché c'è il male? O come espressi nel modo più conciso possibile Uno sopravvissuto dei campi di concentramento nazisti Italiano Lui scrisse questo Se c'è un Auschwitz Non può esserci un Dio Riconosco che è un tema sensibile Molte di noi hanno sofferto tanto O conoscono persone che hanno sofferto tanto All'inizio affronterò il tema dalla prospettiva più teologica Perché la sofferenza in generale? Per poi affrontarlo in modo più personale Parlando delle nostre esperienze Quindi all'inizio potrò sembrare un po' teorico Però è importante rispondere anche ai dubbi più intellettuali Iniziamo dalla testa Però poi arriviamo al cuore Ok? Quindi abbiamo visto che Una delle proteste più comuni contro la fede in Dio È l'esistenza del male e della sofferenza Iniziamo considerando questa prospettiva La sofferenza vista dal punto di vista materialista e secolare Per poi parlare della prospettiva cristiana La prima cosa da notare Ecco qui il primo punto È che il male è un enigma È anche una sfida Sia per chi crede Sia per chi non crede È una protesta che sembra disputare Dio Ma che in verità presuppone il carattere buono di Dio È una traccia di Dio in noi Questo senso di giustizia e moralità Voglio dire questo Se Dio non esiste Perché dovremmo protestare l'ingiustizia? Se non abbiamo un senso del buon assoluto provenuto da Dio Perché la violenza e la crudeltà sarebbero sbagliate? È così che siamo evoluti, no? Il forte mangia il bebole Non ci sarebbe un problema Un filosofo esistenzialista francese Jean-Paul Sartre Lui afferma questo Che la protesta della sofferenza Non può nascere da una visione atea del mondo Ecco una frase sua Se Dio non esiste Non abbiamo né dietro né avanti a noi Un reame luminoso di valori Né qualsiasi modo di giustificare Qualsiasi comportamento Oppure come un altro scrittore Un scrittore russo Dostoyevsky La pose in un modo ancora più conciso Scrisse Se Dio non esiste, caro Allora tutto è permesso Se Dio non esiste Perché protestare il modo in cui funziona il mondo? Non è così che funziona la natura Un animale che mangia l'altro? Non è così che l'uomo si è evoluto Attraverso un lungo processo di competizione E sopravvivenza del più forte Perché protestare la sofferenza e il male? Perché abbiamo questa brama di giustizia in noi? Perché siamo stati creati da un Dio buono Cito qui anche un professore di giurisprudenza Dell'Università di Yale Scritto questo Se il male esiste Deve esserci un bene assoluto Affinché possiamo giudicarlo come veramente male Su quale base allora L'atto giudica il mondo naturale Come orribilmente sbagliato Scorretto e ingiusto Il non credere in Dio Non ha una buona base per essere Oltraggiato dall'ingiustizia Che era la ragione per obiettare a Dio E in primo luogo Il cristiano ha la sfida di spiegare il male Certamente lo faremo fra un po' Ma anche coloro Che hanno altre visioni del mondo E non credono in niente Hanno la sfida di spiegare il male E non solo Anche spiegare il bene La bellezza L'amore Tutto il resto Perché questo mondo esiste e non nulla Da dove viene così tanta bontà E bellezza Perché sappiamo che il bene è buono E il male non ci lascia indifferenti Senza la fede in Dio Non abbiamo la base per chiamare il male Male Né per gestire la sofferenza bene Un teologo chiamato Timothy Keller Ha scritto un libro In cui ha esaminato varie prospettive Quella stoica, buddista, cristiana Quelle indiane Basate sul karma E afferma questo Che non c'è mai stata una cultura Che ha peggio preparato le persone Per la sofferenza Nelle nostre culture occidentali moderne Nel passato le persone Potevano vedere un senso nella sofferenza Può purificarci Può farci crescere Può portarci vicini a Dio Ma oggi crediamo che Non ci sia niente Oltre questo mondo Quando muori Smetti di esistere Lo scopo della vita È essere felici qui Ma così la sofferenza Non ha senso Perché è proprio ciò Che vogliamo evitare Viviamo per non soffrire Leggo cosa Scrive In tutte queste visioni del mondo Tutte quelle La sofferenza E il male Possono essere un capitolo importante Nella nostra storia di vita E una tappa cruciale Per raggiungere Ciò che più vogliamo Nella vita Ma nella visione strettamente secolare La sofferenza Non può essere un buon capitolo Nella tua storia Soltanto un'interruzione Della felicità terrena La ragione di tutta questa enfasi Nel qui e ora Di questo mondo È che il secolarismo Non ha un'altra felicità Da offrire Se non la puoi trovare qui Non hai nessun'altra speranza Quindi Quando soffriamo Nella visione secolare La sofferenza vince Sempre È corrosiva Distrugge la felicità Terrena per cui viviamo Quindi oggi Non sappiamo soffrire Con proposito Ci mancano la grinta E la risolutezza Che le persone avevano In secoli passati Siamo sconvolti Dalle difficoltà Rimaniamo sbalorditi Non sappiamo cosa fare La sofferenza È un enigma E una sfida Per tutti Credenti E non credenti Era il mio primo punto Il secondo È questo qua Il libero arbitro Rende l'umanità possibile L'amore è possibile Ma anche il male è possibile Parliamo di questo Consideriamo la domanda iniziale Ora vista dal punto di vista Cristiano Se Dio esiste Ed è buono E onnipotente Perché permette la sofferenza Perché Non la ferma La risposta cristiana Classica È che Dio Non ha creato il male Non ha voluto il dolore Ed è così Sconcertato Dalla sofferenza Come lo siamo noi Da dove vengono allora Dal fatto che Dio Ha creato persone libere Che hanno La coscienza morale E la capacità Di scegliere Il libero arbitro E che noi Abbiamo scelto Di tradirlo Seguire la nostra Propria strada E ora soffriamo Le conseguenze Del peccato Il male E la sofferenza Del mondo Sono conseguenze Del peccato umano Non sono cose Imposte O volute Da Dio È la risposta cristiana Classica Non so che ne pensi Ma quando Io sento questo argomento Mi sembra Un po' freddo Mi vengono in mente Alcune domande Pongo queste domande Ok? La prima è Ma perché Dio Ci ha dato il libero arbitro Allora? Se era capace Di prevedere Tutto il dolore A cui avrebbe portato Perché ha messo Quell'albero Nel giardino C.S. Lewis Un autore Che ha dato E poi è diventato cristiano Lui dà questa risposta qua Perché la libera scelta Anche se rende il male Possibile È anche l'unica cosa Che rende possibile Qualsiasi amore O bontà O gioia Degni Un mondo di robot Di creature Che funzionassero Come macchine Sarebbe difficilmente Degno Di essere creato Cioè Un mondo Senza la libertà umana Sarebbe un mondo Senza umani Un mondo di È un mondo senza noi Sarebbe un mondo Automatico Dove le azioni umane Non avrebbero significato Sarebbe un mondo Robotico Prevo di senso Jean-Paul Sartre Poi aggiunge Qualcosa di simile Leggo anche una frase sua L'uomo che desidera L'uomo che desidera Essere amato Non desidera La schiavitù Di chi ama Se la persona amata È trasformata In un'autonoma L'amante Si ritrova da sola L'altro non c'è più Le parole Io ti amo Hanno valore Solo se la persona Ha davvero l'intenzione Di dirle Un pupazzo che ripete Io ti amo Quando premi la sua pancia Ripeterebbe questi suoni Ma sarebbero privi Di senso Io preferisco figli Che possono scegliere Di dire Ti amo papà Oppure Me ne vado Perché quando non mi abbracciano So che sono Dei veri abbracci Che mi vogliono bene Una prima domanda Una seconda domanda Che ci può venire in mente Quando pensiamo Al libero arbitrio È Ok Capisco che atti umani Sarebbero privi di senso Senza la capacità Di scelta E che sarebbe meglio Avere un mondo Con significato E anche la possibilità Di amare Ma perché Dio Non impedisce Atti tragici Perché non cambia Le circostanze Che ci fanno soffrire Io penso che in verità Dio spesso lo faccia E a volte riusciamo A guardare indietro E pensare Wow Ma quello Sarebbe potuto accadere Sarebbe potuto andare Molto peggio Penso che molte volte Dio impedisca Che accadano cose Molto negative Però Dio non può Sistematicamente Bloccare Tutta la sofferenza Del mondo Perché se lo facesse Questo distruggirebbe Il mondo Faccio un esempio Per spiegare questa cosa Immagina che io iniziassi A prenderti A impugni In faccia Con molta gentilezza E rispetto Che è Adriana Se Dio Dovesse impedirmelo Dovrebbe Non solo bloccare Il mio pugno In aria Ma anche La mia intenzione Di prenderti a pugno E così bloccare Il mio pensiero E annulare E in verità Annulare Chi sono E così Dovrebbe annulare Chi siamo Tutti noi E in realtà Smette di sostanere Un mondo Dove c'è il male E con esso In un attimo Tutto ciò che esiste Smetterebbe di esistere Per bloccare La sofferenza Del mondo Dio dovrebbe Bloccare Il mondo Per porre fine Alle fonti Di sofferenza Dovrebbe porre fine A noi O per eliminare La sofferenza Dovrebbe eliminare Anche la vita Era una seconda domanda E ecco qui Una terza Che ci viene in mente Quando consideriamo La risposta Del libero arbitrio Che Dio ci ha dato Ok Ok allora Se la scelta Tra questo mondo Con la libertà E il significato E la bontà E l'amore E anche la sofferenza Che abbiamo E un mondo Di robot O l'anichilimento Del mondo Ne vale la pena Esiste molta sofferenza In questo mondo Non sarebbe meglio Che il mondo Non esistesse più È una buona domanda Quando il dolore È grande Siamo tentati Di dire Forse Forse non ne vale La pena E Dio stesso Conosce questa frustrazione Una volta Decisi Di appunto Distruggere il mondo La storia di Noè Se vi ricordate Quando la Genesi racconta Che Dio Decisi di distruggere il mondo Perché la terra Era piena di malvagità Dio Non rimane Indifferente Nei confronti del male Si arrabbia Piange Al punto di voler Distruggere tutto Anche se In fin dei conti Scommette ancora Sulla vita Sceglie Noè E la sua famiglia Per dare un'altra opportunità All'umanità Parte di sé Dice Voglio finire Con questa storia Ma un'altra parte Dice Io vi amo Fa male Ma non posso Fare altro Vi do un'altra opportunità Ancora Perché vi amo Sono legato a voi In queste situazioni qua Mi piace colpire E leggere Quello che hanno detto Le persone che hanno sofferto Molto Così Tanto Un esempio che ho trovato È uno chiamato Desmond Tutto Che ha vinto il premio Nobel Per la pace Per il suo lavoro Per sconfiggere l'Apartheid In Sudafrica Quindi tanta sofferenza lì Lui scrive questo Possono esserci momenti In cui Dio si sia pentito Di averci creato Ma sono altrettanto convinto Che Sono molto Molto più numerose Le volte In cui Dio si senta Giustificato Dalla nostra gentilezza Dalla nostra magnanimità Dalla nostra nobeltà di spirito Per ogni atto malevolo Ci sono una dozzina Di atti buoni In questo mondo Che passano Inosservati Mi ha colpito Anche ciò che disse Quando vide I volti delle persone Oppresse dall'Apartheid Cambiare Quando ho sentito Di come il loro dolore Sarebbe potuto essere usato Per il bene Ok? Leggo qua Aggiunse questo La consistenza Della sofferenza Cambia Quando la vediamo E la sperimentiamo Come redentiva Come non sprecata Come non priva di senso Noi umani Toleriamo la sofferenza Ma non possiamo Tolerare la mancanza Di senso Cioè Ha ragione Possiamo tollerare Dolori enormi Se lo facciamo Per uno scopo prezioso Per esempio Una persona Che dona un renne Per aiutare Una persona che ama No? Il problema Non è soffrire È soffrire Senza un perché Se c'è un valido perché Soffriamo Anche volentieri No? Un altro esempio Mi ha colpito anche La prospettiva Di uno sopravvissuto Dei campi di concentramento Nazisti Della seconda guerra mondiale Uno psicologo Chiamato Viktor Frankl Anche lui Ha notato una cosa simile Ha notato che Nei campi di concentramento Non morivano Quelli che soffrivano Di più Morivano quelli Che non vedevano Più senso Nella vita Che non avevano più Una visione Per il futuro Si lasciavano andare No? Scrisse Nella sua autobiografia Misero colui Che non vedeva Più senso Nella sua vita Nessun obiettivo Nessuno scopo E così Nessuna ragione Per andare avanti Da lì A poco Si sarebbe perso Lui ha notato Che è il significato Che attribuiamo Alle difficoltà Che rende La vita Sopportabile O no Contenta O no Con senso O senza senso Anche se siamo In un campo Di concentramento Possiamo sopportare Molta sofferenza Se è per uno scopo In cui crediamo Facciamo sacrifici Per la nostra carriera Per le nostre famiglie Per i nostri sogni Per le persone che amiamo Siamo disposti A soffrire Per una causa Più grande Noi Vogliamo lottare Per un mondo migliore La nostra brama Più grande Non è Non soffrire E soffrire Per cose Per cui Ne vale la pena Quindi la domanda centrale Non è tanto Come evitare La sofferenza Del tutto Oppure Come mai Questo mondo È così Non sono le risposte Che ci soddisferanno La più grande domanda È Dio Cosa fai Con tutta questa sofferenza Ha senso Il nostro dolore Ha significato Porterà a qualcosa Di buono E la risposta È questa Dio ci sta portando A qualcosa Di molto più bello Di un mondo Di robot O dell'annichilimento Del mondo Il piano di Dio È la redenzione Del mondo È usare Anche gli aspetti Più brutti Della vita Per il bene Produrre un capolavoro Di armonia Da questo mondo tragico Sconfiggere il male E portarci Da un paradiso Dove un giorno Dice l'Apocalisse Egli asciugherà Ogni lacrima Nei loro occhi E non ci sarà più la morte Né cordoglio Né grido Né dolore E colui che sede sul trono Dice Io faccio nuove Tutte le cose E com'è che Dio fa questo? In un modo che non ignora Il male Dio lo affronta Faccia a faccia A tal punto Che il cuore Della redenzione di Dio È una grande tragedia È la morte di Gesù Sulla croce Quando Gesù Prende su di sé Il nostro peccato Quando Dio Non scusa il male Ma paga lui stesso La condanna Del nostro male Quando Dio Muore al nostro posto Affinché noi Possiamo ricevere La sua vita Quando Gesù Grida Dio mio Perché mi hai abbandonato Affinché E io e te Possiamo essere accolti Nella famiglia di Dio Che Dio è? Che soluzione! Meglio definire il mondo Con una bacchetta magica È un Dio che si incarna Nel mondo E affronta Tutta la furia del male E muore per noi E Dal silenzio Della tomba Gesù Risorge E rovesce il mondo In modo che il male Si è sconfitto Nella sua Essenza In modo da farci incontrare Dei semi di risurrezione Anche nelle nostre tragedie In modo da trasformare Questo Mezzo inferno In un grande paradiso Dio Vuole redimerci Non vuole distruggerci Vuole Redimerci Gesù affrontò Il peggio di questo mondo Per redimerlo E un giorno dire Io faccio nuove Tutte le cose Sono redente Sono nuove Ecco una citazione Che io trovo molto bella A riguardo Un autore dice questo La storia di Gesù Ha un lieto fine Perché ha un fine tragico La felicità Dopo la tragedia Al di sopra della tragedia Attraverso la tragedia Raggiunta solo perché Ha percorso la strada tragica Fino alla fine Che Dio straordinario Non è il Dio dei filosofi Che non sente Che non soffre Che ha una mera idea È un Dio che sente tutto Che sente i chiodi Che soffre con noi Che può dire Sei stato deluso? Anch'io Sei stato tradito? Anch'io Hai perso una persona cara? Anch'io La fede cristiana Ha trasformato il modo In cui l'umanità Vede la sofferenza È il mio terzo punto Il più grande Abbiamo visto che il male È un enigma È una sfida Sia per credenti Che per non credenti Per tutti quanti Che il libero arbitrio Rende il male possibile Ma anche l'umanità E l'amore Possibili Il terzo punto è La fede cristiana Ha trasformato il modo In cui l'umanità Vede la sofferenza Perché se Dio soffre per noi La sofferenza viene redenta Acquisisce senso E dignità Viene santificata Possiamo soffrire Come Gesù Usando le nostre ferite Per portare guarigione Ad altri Usando le nostre morti Per portare risurrezione Ad altri Ecco un'altra bella frase A riguardo Il figlio di Dio Soffrì fino alla morte Non affinché gli uomini Possano non soffrire Non per questo Ma affinché le loro sofferenze Possano essere Come le sue Sofferenze redentive Sofferenze non sprecate Sofferenze che consolano altri Sofferenze che guariscono altri Se Dio usò la più grande tragedia Della storia La morte di suo figlio Per salvare il mondo Può fare qualcosa di simile Anche con le nostre tragedie Può usare il tuo dolore Per fare del bene Può usare le tue ferite Per guarire altri Può usare le lezioni Che tu hai imparato Per insegnare altri Può usare la tua bocca Per consolare altri Faccio un esempio Vi racconto un esempio Una storia Di come La redenzione di Dio Si manifesta nelle nostre vite Qui vediamo questi I vari punti Nel corso della vita Di una persona L'esempio di Giuseppe Che si trova nel libro Della Genesi Giuseppe era un ragazzo Con grandissimi sogni Bellissimi sogni Ma i suoi fratelli Erano invidiosi di lui E lo vendono come schiavo Quando era ancora giovane Arriva in un paese straniero Leggito come schiavo Fa del suo meglio Lavora molto bene Ma la moglie del padrone Ci prova con Giuseppe E lui fa la cosa giusta Scappa Ma lei lo accusa Di averci provato con lei In verità E il padrone Lo manda in carcere Pur in carcere Si comporta bene Interpreta il sogno Di un compagno Dicendo che sarebbe uscito Dalla prigione Ma questo compagno Si dimentica di Giuseppe E lui trascorre Circa 12 lunghi anni In carcere Tradito dalla famiglia Venduto come schiavo Vittimo di un'ingiustizia Dimenticato In prigione È una delle storie Più tragiche Che io abbia mai sentito Un giorno però Il faraone Fa un sogno E questo compagno Si ricorda che Giuseppe Avrebbe potuto Interpretarlo Chiamano Giuseppe E lui interpreta Il sogno del faraone Dice che ci sarebbero Stati anni Di abbondanza E poi di carestia Il faraone Lo mette In incarica Di tutto il governo Del paese Dell'Egitto Finché un giorno I fratelli di Giuseppe Arrivano in Egitto Per comprare Cibo E lui soffre La sua tortura Più grande Cioè Cosa fare Con quelli Che avevano distrutto La sua vita Li manda avanti e indietro Finché Piange copiosamente E li perdona E le parole Di Giuseppe Sono di una saggezza Che solo uno Che ha sofferto Molto Può raggiungere Lui dice questo Leggo La fine del libro Voi avete pensato Del male Contro di me Ma Dio ha pensato Di convertirlo In bene Per compiere Quello che oggi avviene Per conservare In vita Un popolo Numeroso Giuseppe Non li scusa Anzi Riconosce il male Che avevano commesso Era male Ma riconosce anche Che Dio Aveva convertito Quel male In bene Attraverso i dolori Di tutti quegli anni Dio stava conducendo Giuseppe Ad una grande missione Che era Gestire le raccolte Del paese Più grande dell'epoca In un'epoca di carestia E così salvare Le vite di migliaia Di persone Dio ha usato Le sofferenze di Giuseppe Per compiere Un bene Molto più grande Ed è E' così che Dio Affronta il nostro mondo Caduto Pagando il prezzo Per salvarci Redimendo le nostre vite Piano piano Per darci Una capacità Di fare Tanto bene Giudicherà il male Ci sarà vera giustizia E ci sarà Una nuova creazione Per tutti coloro Che si sono lasciati Redimere Da Cristo Quindi vorrei concludere Passando dalla testa Al cuore Ancora di più Ok? Vorrei concludere Con tre applicazioni Personali Per le nostre vite La prima applicazione Si trova in questa frase qua Dio ci sussurra Nei nostri piaceri Sono gradevoli Ci parla Nella nostra coscienza Ma grida Nel nostro dolore E' il suo megafono Per risvegliare Un mondo Assurdo Ci sono lezioni Che solo la sofferenza Può insegnare Purtroppo Come un padre Che porta il figlio Dal dentista Anche se il figlio Non lo vuole Perché sa che È per il suo bene Dio Ci fa passare Per cose difficili A volte Ma lo fa Perché per il nostro meglio In fin dei conti Ci vuole veramente bene Non vuole darci Una contentezza superficiale Vuole trasformarci In persone Straordinarie Faccio un esempio Immagina che sei una casa E Dio comincia A fare delle riparazioni E pensi Giusto Queste riparazioni Ci servivano Ma poi Dio comincia A smontare pareti E a fare cose Che fanno molto male E pensi Signore Cosa stai facendo? Fa male Chase Lewis Aggiunge questo Spiega La spiegazione E' che Dio Sta costruendo una casa Molto diversa Da quella che pensavi Inserendo una nuova ala qui Un pezzo extra lì Costruendo torri E cortili Pensavi di diventare Una piccola casetta decente Ma Dio sta costruendo Una regia Intende venire E abitarci Lui stesso Saremmo forse contenti Di essere Dei piccoli cristiani Decenti Sai Sempre incintati Su di sé Sempre un po' invidiosi Mediocri Ma che vanno in chiesa Ogni tanto fanno qualcosa di buono Dai Ma non è questo E questo è il piano di Dio Lui sta preparando Dei capolavori E se ci stai Non smetterà di lavorare Finché tu non Sia una persona Piena di amore E guarigione Per altri Dio non ha Qualche aggiustatina In mente Vuole aprirti il petto Darti un nuovo cuore E farti rinascere Per questo Vediamo molto senso Anche nelle fasi Più difficili No? Dio è l'opera La seconda applicazione Personale Deriva Dalla prima Puoi vedere Che a questo punto La preoccupazione Più grande di Dio Non è minimizzare I nostri sconforti Se la tua preghiera È Dio Toglimi gli ostacoli Per una vita Dedicata al comfort Alla sicurezza E allo status Non è questa La preghiera A cui Dio risponde Perché ci vuole bene? Perché non vuole Dei figli viziati ed egoisti Vuole figli Che lo rispecchiano E per questo Ci matricola Nella scuola Della grandezza Come Giuseppe Il curriculum È fatto da Sconfitte Anonimato Solitudine Sogni non compiuti E se ci stai Sarai un grande E farai del bene A tanta gente Quando io Alcuni anni fa Ho fatto un master In scrittura In scrittura creativa Uno dei miei progetti È stato scrivere Una storia Una sceneggiatura Per un film E un professore Mi ha seguito Uno scrittore Di serie tv Per la BBC Britannica Quando gli ho spiegato La storia Che volevo scrivere La trama I personaggi Una delle cose Che lui ha detto Mi ha segnato Lui ha detto Ma così la vita Sarà troppo facile Per il tuo personaggio Non sarà una storia interessante E disse Lanciali L'inferno Fallo soffrire Dali il suo peggior incubo Togli lì ciò che vuole E dali ciò che lui Non vuole Ma di cui ha bisogno Così lui crescerà E così sarà Una storia interessante Non è vero? Un film con un piccolo obiettivo È un film che dura Cinque minuti Perché il personaggio Lo raggiunge E basta Una buona storia È una storia Di cui pensi Come il protagonista Vincerà questo ostacolo E poi gli lanciano Altri ostacoli E lui cambia E cresce E trionfa Nei momenti finali Ed è così che fa Anche L'autore Della grande storia In cui io e te Ci troviamo Vuole che cresciamo Vuole che maturiamo Quindi spesso Non dà ciò che vogliamo Ma dà ciò che non vogliamo Ma di cui abbiamo bisogno Forse vuoi la fame E il successo Ma la cosa Che ti renderà In verità Una grande persona Sarà una stagione Di fallimento E un animato Benvenga Oppure vuoi il comfort E la sicurezza Ma non li potrai Vivere bene Senza prima Sperimentare Il bisogno Non sprecare Non sprecare Il tuo dolore Non sprecare La tua malattia Non sprecare La tua solitudine Non sprecare Avere una persona Difficile Nella tua vita E impara Tutto ciò Che puoi imparare Da queste esperienze Terza applicazione Finale Noi capiamo Lo scopo Di molte persone Scusa Capiamo lo scopo Di molte sofferenze Con il tempo Come Giuseppe Dopo vari anni Riusciamo a vedere Il bene Che importano Questo vuol dire Che noi capiremo Il senso Di tutto quello Che accade a noi No Altre cose Sembrano solo Tragedie Senza senso Lo tsunami Che uccide Milioni di persone Il neonato Che muore Poco dopo La sua nascita Alcune delle sofferenze Che noi qua Abbiamo già sofferto Ci sono sofferenze Per cui Non abbiamo risposte Ma abbiamo Quello che veramente serve Perché quando la tragedia Colpisce forte Non vogliamo Tante risposte Vogliamo altri Con noi Vogliamo avere persone Che soffrano Con noi Ed è esattamente Questo che troviamo In Dio Un Dio Che sente Le nostre grida E vede Le nostre lacrime E dice Lo so Fa male Pure io Ho perso un figlio Io sono qui con te Abbiamo un Dio Che soffre con noi Abbiamo un Dio Che ti accoglie Abbiamo un Dio Che ti consola Abbiamo un Dio Che ti sta Che ti accoglie Che ti accoglie Che ti accoglie Grazie a tutti.